Io sono Aurora, ho 22 anni e lavoro in un negozio d'abbigliamento, sono adetta alle vendite da tre anni ormai e all'interno del negozio in cui lavoro io mi occupo della gestione della compravendita del reparto di scarpe abbigliamento uomo e in più mi occupo anche del gestire in toto il negozio quindi vetrine pulizia riordino della merce mi occupo anche della vendita diretta con il cliente offronto una vendita assistita all'interno del mio negozio durante il primo anno ho imparato le varie mansioni che può avere un operatore servizi di vendita all'interno di un negozio come nel mio caso negozio abbigliamento durante poi il secondo anno ho intrapreso il mio primo stage lavorativo e mi ha portato ad applicare per la prima volta tutto quello che avevo imparato dietro i banchi di scuola durante poi invece il terzo anno in cui appunto ho affrontato il mio secondo stage ho applicato in toto quello che avevo imparato come vendita assistita e altre poi materie quindi comunicazione col cliente visual merchandising eccetera dopodiché alla fine del mio del mio stage mi è stato subito offerto un posto di lavoro all'interno del negozio in cui ho affrontato il tirocinio il fatto di avere dei professori qualificati è sicuramente un valore aggiunto perché comunque ti portano a imparare in maniera più approfondita poi il mestiere che ti porta a fare questa scuola mi sono resa conto che potevo già iniziare ad affrontare appunto questo discorso questo nuovo capitolo della vita che è proprio il lavoro